Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli italiani. E' piombata una scheggia impazzita sul GF VIP a poche ore dalla nuova diretta. Che cosa accadrà in studio in puntata? La prossima puntata del GF VIP si preannuncia in fuocata. Probabilmente Alfonso Signorini sta già prendendo le prime contromisure. Vediamo insieme che cosa sta per accadere. In queste ore si parla tantissimo del GF VIP. In particolare di un ex concorrente che sta facendo esplodere una bomba. Siamo a pochi passi dalla nuova diretta e la squadra del reality dovrà correre ai ripari. Quest'anno le polemiche sono state all'allordine del giorno e Signorini ha condotto puntate molto complesse e al cardiopalma. Anche quella che sta per cominciare. Si preannuncia bella complicata per il direttore di chi. Non sarà una puntata di eliminazione ma il meno votato al televoto tra Giorgio Ciupilan. Nikita Pellison e Attilio Romita sarà il primo candidato per l'eliminazione nella puntata di giovedì. In casa gli animi sono già caldissimi. Ma è fuori della casa che si è scatenato l'inferno in queste ore. Vediamo insieme che cosa è successo. GF VIP. Un'altra diretta complicatissima dopo la bordata. Le prime settimane del reality sono state occupate tutte dal caso di Marco Bellavia che ha dovuto abbandonare il reality. Dopo essere rimasto solo dentro la casa. L'accusa di bullismo è alleggiata per settimane e a farne le spese più grandi e sono stati Ginevra Lamborghini con la squalifica e Giovanni Ciacci con l'eliminazione al televoto flash. C'è però anche un'altra GFina che è uscita da poco dalla casa e che ha qualcosa da dire ancora proprio su tutta questa storia. Si tratta di Elenoir Ferruzzi che ha appena avuto uno sfogo sui social davvero infernale. La TikToker è stata come una scheggia impazzita e ha inviato un lunghissimo post dicendo basta ai fan, che chiedono il rientro in casa di Ginevra Lamborghini. Il problema è che Elenoir Ferruzzi sarà seduta proprio vicino a Ginevra Lamborghini in studio. Anche nella prossima diretta e a questo punto forse la TikToker vorrà dire la sua indiretta. Come farà Signorini ad arginare un suo presunto sfogo? Elenoir e Ginevra si stanno frequentando al di fuori del programma e potrebbero pensare di agire in coppia contro Signorini. Come andrà a finire? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.